In questo momento devo parlare di sofosbuvir, che è sicuramente un farmaco di enorme importanza, uscito recentemente, con il quale possono essere curati dei pazienti che non hanno risposto a precedenti trattamenti e anche dei pazienti naiv. Il grande problema di questi farmaci è il costo per cui non da tutti i sistemi sanitari può essere sostenuto questo trattamento. Si tratta in ogni caso di rendere l'accesso il più garantito possibile a tutti i pazienti, purché questi pazienti abbiano dei criteri di accesso. I criteri di accesso sono internazionalmente stabiliti e quindi ci sono dei criteri che sono facili da seguire.